Ottenuta la presidenza della Repubblica francese, Emmanuel Macron si tuffa in pieno nelle legislative per non correre il rischio di essere ricordato per la vittoria di Pirro, come sarebbe quella di un presidente privo di maggioranza. Il fatto è che in campagna elettorale aveva detto di non volersi alleare con il suo movimento En Marche ad altri partiti ed aveva promesso di rinnovare la classe politica. A giudicare dalle candidature per le legislative di giugno, un primo passo c'è, come sottolinea il segretario generale del partito. Tra i candidati scelti per le legislative, dice, 214 sono uomini e altre tante donne e il 52% viene dalla società civile, non hanno mai avuto mandati elettivi e non esercitano mandati politici e quindi la promessa di rinnovamento è mantenuta, conclude. Restano da scegliere entro i prossimi giorni poco meno di 150 altri candidati e alcune sono questioni spinose da risolvere, come quella dell'ex premier socialista Manuel Valls, che aveva comunicato la propria candidatura per En Marche, ora ribattezzato la Repubblica En Marche. A Valls era stato detto di no perché non è iscritto al partito, ma in quella circoscrizione il posto non è ancora stato assegnato. Nel frattempo il presidente uscente ha diretto l'ultimo consiglio dei ministri perché il primo ministro si è dimesso per lasciare il posto al prossimo, tuttora sconosciuto.